Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video Io sono Dickman e ci siamo in questo nuovo video Allora oggi vi farò vedere la mia nuova barchetta elettrica Non so se vi ricordate la mia scorsa barchetta elettrica Comunque vi metto il link del video qua da qualche parte in giro per il video E cliccate andate, non so dove lo metterò di preciso Comunque questa che è la mia nuova barchetta appunto Come vedete c'è la ventola dietro che è questa qua Che è un po' più piccola dell'altra volta Poi ho aggiunto l'interdottore On e off ovviamente L'incastro per la batteria E il portabatterie Ora appunto, ora ti metto la batteria all'interno del portabatterie Come potete vedere Infilo il vicino qui, l'incastro Ok, come vedete appena stacco l'interdottore Se lo premo Come vedete appunto parte la ventola Che devo dire che la batteria è scarica Cioè avrà forse, mettiamo sui 5-6 volt al massimo Cioè è veramente scarica oramai Però in ogni caso funzionerebbe Comunque ragazzi per questo video è tutto Spero che vi sia piaciuto Trovate il link di tutti i social nella descrizione Ciao